E' stata una giornata di festa quella di domenica scorsa per il comune di Scigliano che ha festeggiato i 30 anni dell'istituzione della parrocchia unica. Il paese delle 23 chiese come viene definito appunto Scigliano ha ricevuto la visita del cardinale Raimond Leo Burke, cardinale diacono di Sant'Agata dei Goti e patrono del sovrano militare ordine ospedaliero di Malta. E' un evento che viene coronato dalla presenza di un principe della chiesa, il cardinale Raimond Leo Burke che personalmente abbiamo conosciuto, personalmente abbiamo invitato come anche come comunità parrocchiale a venire a celebrare in questo momento 30 anni della parrocchia unitaria. Da 4 parrocchie nel 1985 è diventata un'unica parrocchia. La comunità si è del tutto animata, volontari hanno lavorato fino alle 11 di notte per poter rendere, come dire, gradevole la visita e per poter accogliere il nostro amato cardinale. Il cardinale ha invitato tutti i fedeli a conservare l'unità nella chiesa. Ricordando i tanti sacrifici dei nostri antenati per la chiesa in questo paese e i sacrifici più recenti necessari a formare una sola parrocchia, dedichiamoci anche noi a fare la nostra parte oggi perché la parrocchia di Santa Maria Assunta resti sempre sicura nella fede apostolica e cresca nell'evangelizzazione di tutti.